Teenage Mutant Ninja Turtles numero 50, finalmente dopo anni ci siamo arrivati. Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja, una rubrica, ahimè, che dopo due anni di canale conta solo tre video e questa cosa la dobbiamo mettere a posto. Vorrei farlo parlando finalmente del numero 50 delle tartarughe ninja e della IDW uscito nel mese di settembre in fumetteria e libreria, verso la fine di settembre. Non lo scrivono mai i furbetti, comunque è disponibile dal 21 settembre. Sembra ieri che usciva il numero 1 di Tartarughe Ninja della IDW, edito in Italia da Panini Comics. Invece era il 2013, ragazzi. Tartarughe Ninja numero 1 è uscito in originale in America nel 2011 ed è stato portato in Italia nel 2013. Un numero 1 con delle variant, questa è la variant B, in cui ci sono Leonardo e Michelangelo con ancora le bandane rosse, poi ne parleremo, se volete, in un video apposta. E contava 48 pagine e costava 3,30€. Adesso siamo al numero 50, uscito ben otto anni dopo, che è una cosa, se ci pensate, è tantissimo, se fate i conti, e siamo arrivati alla modica cifra di 11,90€. Però io da un certo punto di vista posso capire. Il pubblico delle Tartarughe Ninja non è così vasto come quello dei fumetti dei supereroi, Marvel, Odyssey, Comics, che dir si voglia. È un po' più di nicchia. Ci sono molti meno gruppi appassionati in Italia di Tartarughe Ninja. Per esempio, mi viene da pensare, per Ghostbusters esiste Ghostbusters Italia, ma non esiste l'equivalente delle Tartarughe Ninja che abbia questa potenza in Italia. Quindi posso capire che le pubblicazioni sono meno, i costi aumentano. Qua è comunque un numero di 112 pagine, quindi è più del doppio di questo, e giustamente il prezzo è più del doppio. Poi se ci aggiungiamo che di recente questi volumi non sono più disponibili in edicola, ma solo in fumetteria e in libreria, questo a tutti gli effetti è un libro e quindi costa di più. Non so perché, non chiedetemi perché, non lo so, anzi spiegatemelo voi. Però così è. In questo numero speciale si festeggia in un modo un po' particolare, ovvero sospendendo un attimo la narrazione che ci stavamo godendo negli ultimi numeri con dei numeri celebrativi, se così vogliamo dire, dei numeri abbastanza indipendenti. Questo perché? Perché in originale vengono presi non solo da Teenage Mutant Ninja Turtles 85 e 86, ma anche da Teenage Mutant Ninja Turtles Universe, ovvero l'universo espanso dei fumetti delle Tartarughe Ninja, dove si parla appunto anche dei comprimari di questa serie a fumetti. Ovviamente per i motivi che ho appena detto, qui in Italia è tutto insieme in un unico fumetto che è Tartarughe Ninja. Questo ci dà l'occasione di vedere una bellissima avventura in solitaria di Michelangelo con Mondogeco, poi un'avventura in solitaria di Leonardo nel mondo astrale, nella sua meditazione, per poi vedere un paio di avventure in famiglia, quindi con il clan amato, il clan delle Tartarughe Ninja, in cui devono prendere delle decisioni che mettono un po' in disaccordo la squadra. Ed è molto bello vedere quando i caratteri delle Tartarughe Ninja si vanno un pochino a scontrare per mostrare più o meno chi prende le parti di chi, chi ha un carattere più spigoloso, chi cerca un po' la mediazione. Ecco, è una cosa che a me è sempre piaciuta delle Tartarughe Ninja, tant'è che ci ho fatto un video apposta che vi metto qua e vi metto anche qua in descrizione se siete curiosi di scoprire quale Tartaruga Ninja vi appartiene di più come carattere. Di queste cinque storie originali, appunto, le prime due sono di Michelangelo e Mondogeco, poi c'è quella con Leonardo in solitaria, poi ce n'è una con Levered e una in cui c'è la guerra tra l'agente Bishop, gli Utrom e i Triceratum. Di queste cinque storie hanno deciso di usare la copertina che raffigura Leonardo che combatte con Kitsune, appunto, quindi la storia centrale, anche il sottotitolo parla proprio della storia centrale, duello nel piano astrale. Però devo dire che nulla da togliere invece alla prima storia, quella che forse mi è piaciuta di più perché mi aspettavo, anche da quello che è stato detto nella quarta di copertina del bimestre scorso, un'avventura molto più allegra tra Mondogeco e Michelangelo. Invece qua siamo quasi ai livelli di un fumetto di Dylan Dogg, nel senso che, cazzo, si parla fondamentalmente anche qui del diritto alla vita, del diritto alla morte di Korra Joe, ovvero Mutagen Man, del fatto che Mondogeco non riesce ad accettare il fatto che l'uomo mutageno sta per morire, il fatto che invece l'uomo mutageno vuole morire, non vuole più vivere in quelle condizioni, mentre Mondogeco non lo accetta, Mondogeco vuole far di tutto per farlo continuare a vivere, anche a discapito di quello che vuole coraggio stesso. Quindi è molto simile al tema di cui abbiamo parlato in Dylan Dogg, Mater Morbi, e nella live che ne è scaturita di conseguenza. Davvero un tema molto profondo, gestito comunque da due dei personaggi più scansonati di tutta la serie, ovvero Michelangelo, che è il più scansonato della famiglia delle tartarughe ninja, e Mondogeco, che è forse la persona più partitor che ci sia nell'universo delle tartarughe ninja. Qua lo vediamo appunto affrontare un dolore più grande di lui, e lo vediamo reagire nel modo peggiore che ci possa essere, a un punto quando non si hanno le armi per gestire un dolore più grande di te, si fanno cose di cui poi ci si può pentire. In questo caso Mondogeco va a gamba tesa contro un esercito per poter salvare il suo amico senza nemmeno pensare a una strategia. Quindi è più un suo desiderio di pancia per cercare di elaborare questo dolore, che non un vero e proprio piano per salvare il proprio amico. Quindi è più un desiderio per sentire meno male su se stesso, che non realmente per salvare coraggio. Però comunque le cose alla fine prendono una piega quasi positiva, nel senso che riescono nell'intento, riescono nell'intento di salvare coraggio, l'uomo mutageno, dal suo destino, tant'è che finisce proprio in uno dei due modi che aveva previsto Mondogeco, ovvero che salvando coraggio dalla morte, coraggio odia Mondogeco, perché coraggio aveva chiesto, aveva diciamo ordinato, implorato, deciso che voleva morire e andando contro le sue volontà ha incrinato questa amicizia. Insomma una storia non tanto leggera per appunto per festeggiare il cinquantesimo numero, ma devo dire che sono stato molto molto contento di leggerla, anche alla luce del fatto che volevo parlarne sul canale, e mi sono ritrovato a parlare di una cosa molto profonda e mi è piaciuto molto, quindi vi consiglio di prenderlo, lo trovate appunto in fumetteria, chiedetelo perché magari non ne hanno appunto tanti, quindi dovrete prenotarlo, oppure magari se lo trovo io su un link Amazon ve lo metto come sempre qua sotto, oppure lo potete trovare nelle librerie che sono molto fornite di fumetti, ormai sono sempre di più le librerie che hanno dei fumetti all'interno. La storia di Leonardo in solitaria ci fa finalmente ricordare come in questo universo narrativo le tartarughe ninja hanno un'origine che a me non piace tantissimo, e però ci tengo a dirvela nel caso non la conoscete, molto più giovane rispetto a quella che conosciamo tutti, ma allo stesso tempo molto più antica, ovvero le tartarughe ninja in questo contesto non hanno 15 anni, non sono adolescenti tecnicamente, non lo sono assolutamente, hanno all'incirca uno o due anni, perché avevano all'incirca un anno quando è iniziata la storia, quando erano iniziati i fatti, sono tartarughe ninja mutanti da pochissimi anni, però allo stesso tempo è saltato fuori che sono a tutti gli effetti una famiglia, perché sono la reincarnazione di quello che erano Amato Yoshi e i suoi quattro figli. E qua per la prima volta dopo tantissimo tempo vediamo Leonardo che quando medita insieme a Kitsune, o meglio, quando medita per conto suo e si ritrova per la strada un nemico fortissimo che è appunto Kitsune, a un certo punto Leonardo smette di avere la forma della tartaruga sul piano strale, e ha la forma di quando era umano nel Giappone feudale, e prende tra le braccia il suo padre anziano che ha la forma umana e non ha la forma di Splinter. Quindi per quanto a me non piaccia questa origine, mi è piaciuto molto che nel piano astrale Leonardo non si sia visto come una tartaruga, o meglio, si è visto come una tartaruga per tutto il tempo, finché Kitsune non gli ha ricordato che lui è effettivamente figlio di Splinter, che in un certo senso è dello stesso sangue di Splinter, perché generazioni addietro erano una vera e propria famiglia. Nella terza storia vediamo l'Edered, sono davvero contento che finalmente lo ripropongono, l'hanno a mio avviso usato davvero poco, e davvero male, nel senso che, ok, arriva, spacca tutto, è un nemico, sembra davvero un figlio di puttana rispetto a, per esempio, all'ultima incarnazione delle tartarughe ninja che ho visto, quella del 2012, dove era sì rabbioso, ma era un amico delle tartarughe ninja, o come quella del 2002. Qua invece sembra molto più simile all'incarnazione delle tartarughe ninja dell'87, dove è un nemico delle tartarughe ninja, punto, è cattivo. Mi piace che finalmente inizia a non essere più così cattivo, ma, però, fa sempre una toccata di fuga e poi se ne va, e non è mai, mai sano di mente, quindi non so se riusciranno mai, se riuscirà mai l'Edered a diventare, in un certo senso, un alleato delle tartarughe ninja. Nell'ultima storia, invece, si continua un po' con la, diciamo, con la narrazione che avevamo lasciato nello scorso numero, ovvero con l'agente Bishop, che anche qua, in questa versione, è un cattivone, non è assolutamente un alleato delle tartarughe ninja, anzi, non si capisce bene cosa sia, pare essere un umano, ma qua nel numero dice che non ha bisogno di respirare. Non ci è dato sapere se sia un utro, non ci è dato sapere se sia un krang, non si sa bene che cos'è. Se è un robot, se è un umano, non si sa, però è qualcosa di strano ed è molto cattivo. Ha finalmente scoperto dove si erano nascosti i Triceraton nel numero scorso, ovvero a Barno Highland, insieme appunto alla razza Uthrom, e adesso ha intenzionato ad andare sull'isola per finire la guerra, perché fondamentalmente è un guerrafondaio, se gli era levati dai piedi, ma ci tiene a spazzarli via dal pianeta. In questa guerra, come dice Raffaello, le tartarughe ninja non ci azzeccano tantissimo, però Leonardo sostiene che dal momento che è stata loro l'idea di condurre i Triceraton su Barno Highland, in un certo senso dovevano intervenire, dovevano intervenire alleandosi con i Triceraton e gli Uthron contro l'agente Bishot e la forza di protezione terrestre. In questo trovano degli alleati fondamentali nei mutanimali, perché Vecchio Diavolo e la sua gang, con appunto coraggio appena ripristinato, con Mondo Dzeko e gli altri comprimari, odiano la forza di protezione terrestre, anche alla luce del fatto che, da qualche numero a questa parte, non mi ricordo quale, ma poi lo recupererò, Slash è stato rapito dall'agente Bishot ed è diventato fondamentalmente un suo burattino nelle mani appunto dell'agente, che lo comanda con una sorta di VR, divisore VR, in cui fa fare a Slash il lavoro sporco. Mi piace vedere quando oltre al Tartarughe Ninja ci sono anche altre fazioni in campo, come appunto i mutanimali, in questo caso ci sono anche i Triceraton, ci sono gli Uthron, ma pare che ci sia una fazione fedele a Krang che si sia appena scatenata su Burno Island, quindi chissà cosa ci sarà nel prossimo numero, sicuramente ci sarà anche una guerra civile all'interno della guerra tra gli abitanti di Burno Island e la forza di protezione terrestre. Il prossimo numero è a novembre, fatemi sapere se vi piace questa rubrica, io sicuramente ne vorrò parlare in ogni caso, probabilmente potremmo sfruttare i momenti buchi in cui appunto non uscirà il numero regolare parlando dei vecchi numeri. Io quasi quasi inizierei proprio dall'inizio, quindi magari se vi va bene, o se anche non vi va bene, comunque scrivetemelo qua sotto così, se vi piace l'idea lo faccio molto più volentieri, lo faccio in ogni caso, ma lo faccio più volentieri, dal mese prossimo potrei iniziare a parlare appunto di Tartarughe Ninja numero uno dell'IDW, facendo anche un piccolo riassunto, così se qualcuno non sa di cosa sto parlando, oltre a fare una recensione, proprio vi racconto cosa c'è nel numero, se non riuscite a recuperarne il fumetto. Grazie per avermi seguito fino a qui, io come sempre con l'inchine e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci al prossimo video, e voliamo verso il 2022, in cui cercheremo di fare sempre più video sulle Tartarughe Ninja, promesso, arrivederci ancora.